Ed eccoci qua, eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio e sempre con il microfono e la cam, accesi. Allora, oggi ho letto su Repubblica.it un'intervista alla D, all'amministratore delegato della Ross-Royce. Praticamente ha detto che l'ultimo anno, o comunque gli anni del Covid, diciamo così, sono stati gli anni migliori per le vendite del loro brand, della loro macchina. Proprio l'anno migliore in assoluto da quando è nata la Ross-Royce. E vabbè, al di là di questo dato, la cosa che veramente mi interessava è stata la motivazione che ha dato, che mi ha fatto pensare. Lui praticamente ha detto che la gente si è reso conto che la vita è breve, e che quindi ho pensato bene di togliersi qualche sfizio, di non rimandare una decisione, la prendo, non la prendo, cose del genere. E quindi si è buttata sul lusso. Magari pagando la rate, ma questo lo aggiungo io. Perché sono sempre convinto che sono troppe macchine di lusso per la strada. E si vede proprio la rata. Le rate che ogni macchina di lusso mi sembra di vedere un numero di rate passare. Comunque, vabbè, al di là di questo. Il discorso che ha fatto è che la vita è breve, e che quindi la gente vuole togliersi qualche sfizio e cose del genere, perché non si sa. Cioè, domani non si sa cosa sarà. Il discorso mi ha fatto riflettere, mi ha fatto pensare, e devo essere sincero, lo condivido. Cioè, adesso non mi prendo un macchinone, ok? Anche perché non potrei permettermi neanche il modellino, mi sa. E neanche mi piace, tra le altre cose. Però questo è un altro discorso. Però, effettivamente, sono stati due anni incredibili. Cioè, mi sa che non ce ne rendiamo ancora bene conto di sta cosa qua. Perché la stiamo vivendo, sta situazione, ok? Ce ne renderemo conto quando finirà. Spero presto. Molti diranno se finirà. In parte concordo, perché... Comunque, se me l'avessero detto anche tre anni fa, che avremmo vissuto tipo in un film, metti mascherina, leva mascherina, no? Questa mascherina non va più bene, prendine un'altra, adesso puoi levarla, no, adesso devi rimetterla. Non ci avrei creduto, ok? Non ci avrei creduto. Però la vita è breve. È veramente breve. Questo è il succo del discorso. Questo è il succo del discorso. Per lo meno, breve o non breve, è cambiata. Quindi sapete cosa si dice in occasioni come queste, no? C'era quella frase che girava spesso su Facebook, è girata negli ultimi anni, quella che dice la vita è breve, quindi prendi in mano quel telefono, fai quella chiamata, manda quel messaggio prima che sia troppo tardi, e cose del genere. E anche questa cosa mi fa un po' riflettere. Perché dico, sì, la vita è breve, manda quel messaggio prima che sia troppo tardi, manda quella lettera, fai il primo passo, eccetera, eccetera. Ma è giusto cioè farla sta cosa effettivamente. E non è neanche una questione d'orgoglio, ok? È giusto fare il primo passo per risolvere delle situazioni? Perché magari delle situazioni si è in due ad averle create, ok? E spesso e volentieri uno dice manda quel messaggio, scrivi quella mail, scrivi quella lettera, eccetera, eccetera. Però magari non sarebbe quel messaggio, sarebbe l'ennesimo messaggio, sarebbe l'ennesima lettera. E sarebbe un continuare con qualcosa, ok? E ha senso sta cosa. Ha veramente senso sta cosa. O forse è meglio dire la vita è breve. Smettiamo di pensare di mandare quel messaggio, smettiamo di pensare di mandare quella lettera che magari ci fa rendere solo ridicoli. Perché per una persona che fa un passo in avanti ci deve essere anche l'altra che fa un passo in avanti, ok? E magari ne abbiamo già fatti di passi in avanti, ne abbiamo già mandati di messaggi. Però se dall'altra parte vediamo un muro, oppure una persona che ha un nostro passo in avanti e fa un passo indietro, che senso ha, ok? Quindi la vita è troppo breve. La vita è breve. Quindi smettiamo, ok, di pensare di fare queste cose, di mandare ultimi messaggi, di mandare primi messaggi, di mandare, di voler chiarimenti a tutti i costi, di cercare di risolvere delle situazioni. Perché a volte, semplicemente, le situazioni sono solo ed esclusivamente nella nostra testa, ok? I dialoghi che ci facciamo sono solo ed esclusivamente nella nostra testa. Dialoghiamo con fantasmi, dialoghiamo con cose che non ci sono più. Dialoghiamo con situazioni passate, non presenti. Dialoghiamo con il passato, manderemo un messaggio al passato che non torna più. E la vita è troppo breve per cercare di far tornare il passato, ok? E questo è il succo del discorso. Come si è arrivato a pensare a sta cosa da una Ross Royce? Solo la mia testa può spiegarla, sta cosa qua. e soprattutto sono un maestro delle cose teoriche, io, ok? Quindi, teoricamente so che il discorso che ho appena fatto è giustissimo. In pratica, sono anche quello degli ultimi messaggi, del passo in avanti, delle porte lasciate aperte. la forza di lasciarle aperte, queste porte però fa corrente d'aria e man mano ogni volta. Però sono quelle malattie che sono tipo il Covid, sono malattie strane che uno non conosce. Va bene, buonanotte. La forza di cing Damit